sai che a parte che siamo due peperoni ma sono giapponese ma guarda che triplo mento che c'ho Dani sono vecchio è porco due e no porco due si può dire no e porco tre è tre porco tre guarda che rughe e no quello non si può è il fiume no è il po stiamo facendo una prova sul canale direttamente youtube dello zoo youtube se allora amici fate sentire a marco la vostra scala ma soprattutto la vostra condividete adesso il mento piace e soprattutto lasciate un commento con questo hashtag che è la 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 pupu pupu ma aspetta di video su youtube che hanno successo hanno la figa ok non si gira la telecamera come si fa vedere un po di figa e no ma non giri e non si gira si gira e gira il telefono fai prima aspetta così ok allora saluta questo è per quelli che amano l'adult che cazzo vuoi? queste sono le categorie reddette che cazzo che cazzo che cazzo blondi skinny teen magari vecchi maial ecco retro sexual oh cazzo gira tutto il contrario siamo a testa in giù? è vero? aspetta uoooo ok boh vediamo ciao